papè satan papè satan aleppe ecco riconoscete no questo verso questo è uno dei versi originali della divina commedia ma sono altri che gridano queste urla infernali grida di infanti mi si fanno dire ludrebber fin nelle remote steppe queste grida che mi tocca assorbire squillano forti nel primo mattino negando agli avventori di dormire la tentazione che mi viene perfino sarebbe quella di prendere un randello e porre così fine a sto casino ecco anche a dante succede che quando va in vacanza in campeggio si vuole riposare poi ci sono i bambini delle tende vicino che urlano giocano strepitano e gli tocca svegliarsi e iniziare poi la sua giornata bene così così ha molte più avventure da raccontare disavventure purtroppo per lui a domani per altre disavventure del povero dante grazie a tutti